La Regione Puglia prosegue nel suo lavoro di contenimento al coronavirus, ma al contempo in un'attività finalizzata ad attrezzare il territorio in vista di probabili crescenti richieste di intervento sanitario. E da ultimo il Dipartimento di Emergenza ed Accettazione del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce è stato trasformato in ospedale Covid-19. A San Cirne l'attivazione è una determina dirigenziale, ovvero la numero 76 del 20 marzo. Abbiamo attivato anche questo importantissimo presidio per far fronte all'emergenza coronavirus, dichiara il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. Possiamo quindi contare su una struttura moderna e funzionale che rispetta tutti i parametri per la migliore assistenza dei malati Covid-19. Il Dea Covid da oggi operativo con un percorso dedicato ai pazienti con sei posti di osservazione breve intensiva per pazienti giunti al pronto soccorso con una gravissima insufficienza respiratoria, nonché 36 posti di terapia intensiva e rianimazione, 40 posti letto in malattie infettive Covid e 44 di pneumologia Covid, anche questi dotati di posti letto di terapia subintensiva. I reparti di degenza saranno supportati da un servizio di radiodiagnostica dotato di un attac, 128 strati, una sala di radiologia tradizionale e di ambulatori di ocodiagnostica, anche cardiologica. Rimarrà in funzione presso il plesso originale il reparto di malattie infettive già voluto dall'ordinaria programmazione regionale con i suoi 26 posti letto. Parole di soddisfazione quelle espresse dal direttore generale Asleccer, Rodolfo Rollo, che parla di una corsa contro il tempo finalizzata a garantire in tempo utile i servizi necessari per affrontare una prima ondata di richieste di ricovero. Si è pronti, inoltre, ad incrementare ulteriormente il numero di posti letto di ulteriori 50 unità, con 16 posti di terapia intensiva, nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori picchi di afflusso di pazienti. La nostra azienda ha agito compatta e con solerzia a ferma per contribuire a contenere l'emergenza, mettendo in campo uomini e donne competenti, tecnologie avanzate e strutture adeguate. Grazie a tutti.